Tra i protagonisti, tra le società protagoniste quest'oggi all'Ime Investor Day 2016 abbiamo Clavo e abbiamo il piacere di avere qui con noi Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato della Società. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora iniziamo con al passare in rassegna, quali sono le linee di sviluppo, le principali linee di sviluppo strategiche della società Clavo? Clavo ha come obiettivo strategico quello di crescere secondo due direttrici principali che sono da un lato la crescita sui mercati internazionali, in particolare sui mercati emergenti. Oggi ricordiamo che esistono paesi nel mondo come la Cina dove il gelato, che è il nostro mercato di riferimento, quindi il Banco per la Gelateria Artigianale, sta avendo un successo incredibile. Oggi aprono circa 5-10 gelaterie ogni giorno. Quindi crescita sui mercati internazionali attraverso nuovi stabilimenti produttivi e nuove quote di mercato e dall'altra sui mercati invece più tradizionali attraverso l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti come quelli che Clavo ha presentato quest'anno a gennaio che introducono nel nostro business la domotica e le nanotecnologie. Se le chiedo perché investire in Clavo, cosa risponde? Investire in Clavo perché investiamo in un business consolidato, in forte espansione su molti dei paesi emergenti, su un'azienda che ha fatto di questo business in particolare il suo cavallo di battaglia da tanti anni, ha un know-how specifico, ha una forte e radicata presenza nei mercati tradizionali ed è posizionata molto bene nei mercati a più alti tassi di crescita. Qual è il suo giudizio, infine, sull'esperienza di quotazione su L'AIM e Italia? L'esperienza è sicuramente molto buona. L'AIM accresce la notorietà delle nostre aziende in Italia e soprattutto nel mondo. Di solito si è propensi a credere che la notorietà aumenti solo nella comunità finanziaria, questo non è vero, aumenta anche nei confronti di fornitori e di clienti anche in ambito internazionale perché l'azienda diventa più visibile a tutti, non solo agli analisti o agli investitori. Quindi maggior notorietà, maggior credibilità dell'azienda e ovviamente la possibilità di reperire risorse per finanziare dei progetti che altrimenti sarebbero stati molto difficilmente finanziabili. Scontiamo ancora in Italia purtroppo un piccolo gap di liquidità, il nostro mercato AIM è ancora poco liquido, questo rende spesso il valore dei titoli disallineato rispetto ai fondamentali dell'azienda, il nostro caso probabilmente è uno di quelli più ecclatanti, oggi abbiamo un rapporto P attorno a 4, però siamo ragionevolmente convinti che sviluppando il nostro piano industriale, raggiungendo i target che ci siamo dati, nel breve volgere di qualche anno i valori si riallineeranno a quelli che sono i fondamentali tradizionali dei mercati. La ringrazio per la tua intervista. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.